Quasi 10.000 tra prime dosi e richiami in una sola settimana. Prosegue così, a ritmo serrato e nell'aretino, la campagna vaccinale anti-Covid. In vista dell'apertura delle liste alla popolazione 60-64, la ASLA Toscana Sud-Est ha pianificato le attività di immunizzazione. Nello specifico, tra il 3 e il 9 maggio, sono 20.782 le somministrazioni previste in prima dose nell'intera area vasta. I vaccini utilizzati sono Pfizer 12.140, Moderna 6.452 dosi e Johnson & Johnson 2.190 dosi. Di queste, 8.880 saranno destinate alla provincia di Arezzo. A queste vanno poi aggiunte le seconde dosi, tra cui anche i richiami di AstraZeneca al personale scolastico e alle forze dell'ordine, iniziate il 6 maggio, e che prevedono circa 4.000 dosi sino a domenica 9 maggio, di queste 1.500 nell'aretino. È importante ricordare che questo turno di vaccinazione non è ad accesso libero, ma solo su prenotazione già effettuata. I cittadini verranno così preavvertiti con un SMS. Contemporaneamente è poi partita la campagna per la seconda dose, con vaccino Moderna alle persone estremamente vulnerabili a domicilio, che terminerà il 9 maggio. Le categorie coinvolte sono gli estremamente fragili, i 70-79 anni, caregiver e la fascia d'età che va dai 65 ai 69 anni. Nello specifico, tra giovedì 6 e domenica 9 maggio, saranno 9.826 le nuove vaccinazioni. Di queste, 4.652 riguarderanno la provincia aretina.